20 anni fa, Franco e io abbiamo deciso di cambiare tutta la nostra vita. Abbiamo deciso di ritornare alla mia casa, portare i vineyards e insieme a fare vino. Non è facile sulla nostra collina produrre molto meno per avere una qualità. Queste vigni producono un prodotto eccezionale, però come quintali, come peso, come quantità di uva è molto bassa. Abbiamo in 1990 con 2.000 botti, la prima 2.000 botti di dolcetto in questa cellula. Generalmente in Piemonte abbiamo molti diversi dolcetti, ma in l'area dell'Ogliani, da le vecchie vigni, possiamo fare un speciale dolcetto. San Bernardo è il nome della chapel e le vigni sono stati in 1943, e sono molto, molto vecchi. e per noi è assolutamente importante preservare i vecchi vigni, perché i vecchi vigni ci hanno un speciale dolcetto. Siamo a la cima della nostra città, 570 metri, e abbiamo molti diversi temperaturi, nel giorno e nel giorno, e molti venti. Dolcetto è un vino frutti, e abbiamo bisogno di questa temperatura e di questo vino per fare un piacere più intensivo del frutti. Questi pieti sono molto importanti per noi, questo suolo e questa natura sono importanti per la nostra storia, per la nostra amore, per la nostra vita, per la nostra vita. Siamo molto felici per la nostra scuola. Grazie.